I temporali, ampiamente annunciati dai meteorologi per il pomeriggio odierno, si sono abbattuti massicciamente su tutta la provincia, accadendosi in particolare nell'area dolomitica, dove pioggia e fulmini non hanno mancato di creare danni. L'area più colpita dal maltempo è stata quella dell'altopiano dello Schiller, dove si sono verificati numerosi allagamenti e un torrente è esondato a Siusi. Tutti i corpi volontari dei vigili del fuoco della zona si sono messi in azione per rimediare ai guasti provocati dal maltempo. Pompieri all'opera anche in Val di Sarco per un incendio vicino a un maso a San Ingenuino, sopra Barbiano, provocato da un fulmine. Molte zone della provincia sono state anche colpite da violente grandinate, come sull'altopiano del Renon. Maltempo che si è accanito con particolare violenza anche in Val di Fassa, dove si sono registrati allagamenti e smottamenti.